Mi è stato chiesto di iniziare con una poesia, a me fa piacere perché questo è l'ultimo libro, l'ultimo come se ne avessi scritti dieci, il secondo, tratta di delle persone normali, delle persone che fanno una vita normale, che non hanno contatti con la malavita, che però sono state uccise. Sono medici, sono insegnanti, sono ragazzini ed io faccio parlare direttamente loro. Voglio leggere questa poesia Paolo Rodà, si chiama il ragazzino. Padre e figlio, questo è l'articolo uscito su Repubblica il 2 novembre, il trafiletto, il 2 novembre del 2004. Padre e figlio, tredicenne, ucciso a colpi di fucile e caricato a pallettoni. Ferito un altro figlio. È successo oggi pomeriggio in un agguato teso nelle campagne della Locride. Le due vittime sono Pasquale Rodà, di 37 anni, e il figlio Paolo, di 13. Il fratello maggiore, Saverio, di 17 anni, è stato ferito di striscio al torace. Guarirà in dieci giorni. L'agguato è avvenuto intorno alle 15 nelle campagne di Bruzzano-Zeffirio. Pasquale Rodà si trovava in auto con i figli. Dopo i primi colpi di fucile, calibro 12, caricato a pallettoni, esplosi mentre il fuoristrada era ancora in movimento, Pasquale e Saverio Rodà sono scesi dall'auto tentando la fuga. Pasquale è stato ucciso, mentre Paolo è riuscito a mettersi al riparo, benché ferito. Obiettivo dell'agguato, secondo gli inquirenti, era Pasquale Rodà, noto alle forze dell'ordine, considerato vicino al cammafioso Speranza Palamara-Scriva. L'omicidio potrebbe essere legato alla faida di Motticella, una trentina di morti negli ultimi 15 anni. Paolo Rodà, di 13 anni. Tra questi terreni abbandonati ai signori della violenza, che stuprano vite in un vortice di pulizia etnica, imparavo a mungere pecore e capri. Scuola e lavoro a 13 anni. A 13 anni potevo imbracciare un fucile, così pensava il malandrino che ha reciso me, che ha reciso mio padre. Ho nelle orecchie la voce di mia madre. Attento al bambino. E nessuna antimafia mi ricorda. Attenti al bambino. Potevo imbracciare un fucile. E nessuna scuola mi ricorda. Era un demonio selvaggio. Tra questi terreni ripudiati imparavo ad essere un pastore. Ma sono buoni solo quelli del presepe. Gli altri possono imbracciare un fucile. E nessuna voce mi ricorda. Né qui né a Torino. Né qui né a Milano una via porti il mio nome. Ricordano i car di blu. Il luogo dove si perse il mio sangue. Pietre laviche scheggiate o come lapide. E rimaste impigliate tra i rovi del sentiero. Passandola vedrete. La mia allegria di bambino spensierato. Mi si chiede di raccontare un po' la mia esperienza. Io parlo con una cosa recentissima. Io vivo da qualche anno. Sono tornato a vivere in Piemonte dove faccio il chirurgo. Però mi è capitato tre mesi fa di tornare nella mia terra. Una mattina sono andato a prendere così un cappuccino in un bar. Il paese vicino al mio. La mia famiglia è molto numerosa. La famiglia originaria è quella di mio padre. Per cui c'è gente che vive nel mio paese. Ho cugini vicini. Mentre stavo lì. Poi in genere amo leggere i giornali. Per cui li compro. Leggo il giornale. Ho visto. Mi sono accorto così di un motorino con due persone a bordo. Che mi è venuto proprio incontro. Ho alzato gli occhi. Il primo l'ho riconosciuto ed era un mio primo cugino. Il secondo mi è parso di averlo conosciuto però non ero così certo. Allora si è fermato ma bussato proprio. Il primo gesto è quello dello sputo a terra. Mi ha sputato. Mi ha detto tu sei un pentito. Poi mi ha bussato forte nello specchio. ha continuato con i suoi con i suoi improperi chiamandomi insomma in maniera in modo inqualificabile. Poi siccome io sono un tipo molto tranquillo. Ho acceso la macchinina e me ne sono andato piano piano. Non sapevo cos'altro aspettarmi. Giunto a casa di mia madre ho raccontato la cosa. Il mio stupore ma non è stato stupore perché conoscendo l'ambiente non è stato stupore è che mia madre tentasse di giustificare mio cugino dicendo ma sai magari lui ti vuole bene allora vista sta scelta che hai fatto tu mamma ti rendi conto che non ha alcun diritto di venire da me a fare queste cose. Sì però insomma da allora mia madre non mi ha telefonato mi ha telefonato una sola volta da tre mesi per dirmi guarda che è arrivata una bolletta dell'ETR va bene mamma grazie io non provo a chiamarla perché sono ancora sto ancora riflettendo e così è stato per per le mie sorelle ho una sorella che anche lei perché poi nella mia famiglia sembriamo quasi normali perché tre mie sorelle sono laureate una è diplomata dopo la morte di mio padre insomma abbiamo fatto una vita tranquilla normale e però queste mie sorelle tranne una che abita vicino a me che abita là in Piemonte difficilmente mi chiamano cioè quasi mai e io so perché perché ho fatto questo questo tipo di scelta che poi non è una scelta io non la vedo come una scelta assolutamente coraggiosa io la vedo come una scelta obbligata non è una scelta coraggiosa e questo insomma poi alla fine mi fa riflettere ho la fortuna insomma di avere una moglie e dei figli che mi mi sostengono ci sosteniamo a vicenda in questo in questo percorso la fortuna di avere un lavoro che mi piace e che e che mi da mi occupa tanto tempo e mi fa pensare meno a queste cose è una battaglia sicuramente dura quella quella del dei nostri territori della però bisogna dare dei giudizi netti nel senso che non tutto è mafia in genere diceva diceva Sciascia che a volte nei periodi di recrudescenza quando venivano uccisi i magistrati quando succedeva qualcosa di grave sembrava che ogni siciliano fosse mafioso così come sembra che ogni meridionale sia mafioso questo non è assolutamente vero non sono non sono io che lo dico dico ma tante volte lo stesso Don Eugenio Fizzotti che è un mio il mio padre spirituale che è un quando quando sono disperato vado da lui o lo chiave dice ma no guarda stai tranquillo tu non sei mafioso ci sono persone per me ma io lo so perché ho fatto una scuola eccetera quindi so che ci sono buona parte io dico tre quarti delle società meridionali che non hanno che non hanno una mentalità mafiosa neanche e però vivono in un contesto in cui dobbiamo dire in cui pochi hanno coraggio hanno il coraggio di ribellarsi di fare delle scelte delle scelte differenti allora dall'esterno sembra poi che tutto sia sia la stessa cosa alla mafia bisogna avere il coraggio di dire di combattere di dire i nomi fare i nomi dei mafiosi dirgli chi sono cosa fanno eccetera ma il coraggio di dire anche che è una società quella meridionale che può che può benissimo alzarsi anche in piedi da solo perché io credo tra l'altro che i più grandi le persone che hanno contrastato maggiormente le mafie eccetera sono meridionali basta dire Borsellino basta dire Falcone ma non solo ma non solo questi questi uomini che hanno dico sacrificato la loro vita per liberare questi territori ma ci sono dei nomi di persone sconosciute alcune delle quali sono qua che giornalmente nel loro lavoro nel loro quotidiano facendo onestamente il loro lavoro rifiutando accordi sotto banco rifiutando accordi criminali combattono le mafie grazie a tutti Grazie a tutti